Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Festival della Statistica e della Demografia. Siamo giunti alla settima edizione e siamo in una edizione che abbiamo voluto intitolare Rigenerazioni, dati, storie e prospettive oltre il Covid-19. Siamo anche fisicamente e nuovamente in presenza a Treviso e siamo naturalmente in diretta streaming. E quindi consentitemi prima di tutto di salutare i presenti qui nella grande sala dei 300 a Treviso e di salutare tutti coloro che ci seguono in diretta streaming. Benvenuti e bentrovati e ben ritrovati. Abbiamo pensato quest'anno un evento con moltissimi sotto-eventi in presenza e quasi tutto seguibile in diretta. Uno di questi eventi cosiddetti un po' mix, però riaffermando una presenza e una piccola invasione nella città di Treviso. Abbiamo poco fa aperto il Festival con la presenza del Presidente Blangiardo e del Presidente dell'Istat e del Presidente della Società Italiana di Statistica, il Professor Crocetta, che organizzano il Festival della Statistica e siamo subito in uno dei più importanti, io credo, eventi di questa edizione. L'intervista al Ministro Giovannini, che ringrazio, do il benvenuto, il bentrovato, insomma, possiamo definirlo un amico del Festival, un abitué, insomma, anche qualcosa di più. Ecco, per naturalmente la sua storia, il suo curriculum, non solo illustre economista, statistico, accademico, ma naturalmente già, insomma, Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica e quindi tutti coloro che oggi lavorano all'Istat, naturalmente, non possono che ricordare il Presidente, il Professor Giovannini, come un grande Presidente e un grande anche ex collega in qualche maniera, quindi è veramente un onore dargli il benvenuto e dargli il ben ritrovato a Treviso, anche se in collegamento dal suo ufficio. Naturalmente il curriculum del Ministro non è necessario ricordarlo, già Ministro anche nel 2013-2014 con il Governo Letta e da febbraio 2021 Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Questa è la grande parola, insomma, che racconta la storia del curriculum del Professor Giovannini, che ringrazio e al quale tra poco certamente daremo la parola, non prima di aver presentato, però, insomma, l'abbiamo ingaggiato perché è un grande giornalista, anche lui, Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24, ma che è un giornalista che ha a che fare con i numeri, insomma, dicono che lei si è laureato in matematica e che quindi, diciamo, si occupi di numeri da parecchio tempo, peraltro abbiamo tutti imparato a conoscerlo e a seguirlo con grande attenzione nella rubrica su Sky i numeri della pandemia che veramente ci ha quasi accompagnato, insomma, in tutto il periodo anche quello più difficile che abbiamo affrontato e di cui crediamo, siamo sulla strada per uscirne. Quindi, ribadendo nuovamente il benvenuto a tutti, non posso che cedere la parola ad Alessandro Marenzi, che ritroveremo in tanti eventi di questo festival e grazie ancora di essere con noi e ci apprestiamo ad ascoltare questa prima grande intervista del settimo festival della statistica e della demografia. Grazie a tutti. Ringrazio il direttore Camisas, che ringrazio naturalmente dell'invito, vi rubo solo dieci secondi perché vorrei ringraziare, e non è un ringraziamento di circostanza a nome della mia categoria, quella dei media, il lavoro che è stato fatto dall'Istat, da tutto il mondo della statistica italiana in questo anno e mezzo eccezionale, poi su come abbiamo utilizzato quei dati, credo sia oggetto di altri panel, non di questo, quindi ne parliamo in un'altra sede, ma ci tenevo, non è di circostanza, condizioni difficili, insomma, davvero, grazie per il lavoro svolto. Allora, di Giovannini, l'introduzione ha già ricordato tutti, io direi che come cronista, se mi dicessero, con chi vorresti cominciare a parlare dei temi di cui ci occupiamo? E direbbe, bisognerebbe trovare qualcuno che magari è stato, appunto, presidente degli istituti di statistica, portavoce dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile, adesso in un ministero pivotale per il PNRR e quindi tutto concorre a disegnare il profilo del ministro Giovannini, a cui do anche io, naturalmente, il mio ringraziamento, il mio benvenuto. Ministro, lei questo festival l'ha visto e l'ha fatto nascere nella sua prima edizione, io comincio subito dalle questioni statistiche. Sono stati, appunto, 18 mesi eccezionali per la statistica, eccezionali in senso proprio etimologico, che hanno fatto eccezione al lavoro che già cospicuo deve essere fatto su questi temi. Siamo stati abituati a misurare i danni per un bel periodo, adesso ci troviamo a misurare reazioni e magari anche speriamo successi. Ora, io le chiedo subito, nel caso, ad esempio, del generale Figliuolo, la questione sembra un po' più semplice, perché la vaccinazione si vede subito, se funziona o non funziona. Come invece decisori politici, come governo, come ministri, adesso voi siete alle prese con una gatta da pelare enorme, cioè quella di gestire questo recovery plan, che è una sfida colossale. Come vi misuriamo? Come vi misurano le statistiche? Quando e perché e come? Noi potremmo dire, siete stati bravi, ce l'avete fatta. Grazie direttore, grazie anche al direttore dell'Istat, è veramente un piacere essere di nuovo con voi, purtroppo a distanza, sapete che ieri c'è stato un consulio dei ministri lungo e poi c'è stato un follow-up, quindi non sono riuscito a essere con voi. Mi faccio fare un passo indietro, che le do subito la risposta, ma con un caso molto concreto, che è l'occasione per ringraziare concretamente anche l'Istat, il presidente Blangiardo e tutti, per quello che ci hanno aiutato a fare in questi mesi. Io ho chiesto all'Istat di condurre una rilevazione nei mesi stivi sulle preferenze attese degli italiani sull'uso del trasporto pubblico locale, da cui è emerso un quadro che ci ha aiutato molto a prendere decisioni, perché ha fotografato con precisione quello che sta accadendo. Il sistema del trasporto pubblico locale è stato potenziato, le corse aggiuntive sono 3,4 volte quelle dell'anno scorso, ma soprattutto quell'indagine ha mostrato una forte preferenza per il trasporto pubblico individuale, le automobili, e chi vive nelle grandi città ora lo vede. Questo, da un lato, ha contribuito a ridurre l'uso del trasporto pubblico locale, e quindi a consentire alle regioni di tarare i servizi aggiuntivi, ma dall'altro naturalmente crea problemi sul congestionamento delle città. Questo lo dico perché rispetto alla domanda e alla misura ci sono due elementi. Uno è quello che sta succedendo, l'altro quello che presumibilmente succederà in funzione anche delle decisioni del governo. E qui vengono le indagini dell'Istat su clima di fiducia, sui piani delle imprese, sui piani delle famiglie, che già hanno mostrato chiaramente come solo l'adozione del PNFR ha generato aspettative, ha generato aspettative di cambiamento che poi determinano comportamenti concreti. La fortissima crescita del prodotto interno lordo l'abbiamo vista, ma il fatto che anche l'occupazione dipendente sia di fatto tornata ai livelli anti-crisi, anti-Covid. Molta occupazione a termine, come sempre nelle fasi di partenza. Questi sono dati concreti che vanno però letti insieme alle prospettive. La domanda che lei ha posto è una domanda per noi molto rilevante come Ministero, visto che siamo il primo Ministero in termini di progetti, quasi 62 miliardi che dobbiamo realizzare. Noi stiamo preparando un sito su questo, c'è un sito del Ministero delle Finanze che mostrerà gli stati d'avanzamento che però devono essere anche micro, come piace in particolare a voi giornalisti. Per esempio i primi due bandi di Rete Ferroviaria Italiana per il PNRR che includono le premialità per le imprese per chi assume donne e giovani. L'avevamo deciso a maggio, ecco, i bandi che incorporano questo meccanismo stanno uscendo adesso. Quindi probabilmente dovremmo costruire insieme anche ai media un sistema informativo, non solo statistico, che però mostri se il PNRR si sta attuando. Ministro, l'altra misura naturalmente di questo vostro impegno, di questo vostro lavoro è molto più semplice, è un orologio, cioè il tempo che ci si mette a fare le cose concordate con l'Europa. Nelle cronache adesso vediamo e discutiamo anche come media, questi ritardi che ci sono più sul fronte alle riforme politiche, che come sappiamo sono più complesse degli investimenti, per quanto complesse anche loro, dobbiamo cominciare a preoccuparci di questi primi piccoli ritardi sul fronte alla concorrenza della delega sulla riforma fiscale, perché sappiamo che lì la misurazione del successo politico è forse anche più complessa, però poi c'è l'Europa che la farà, quindi un giudice c'è da qualche parte che dice se stiamo andando bene o no. Marenzi, per quanto tempo si è discusso della necessità della riforma del codice degli appalti? Lei che è un attento osservatore. Da prima che cominciassi a fare questo mestiere, quindi direi che non posso rispondere nemmeno. Quanto i media hanno passato la notizia che sulla legge delega, la bozza della legge delega sulla riforma del codice degli appalti l'abbiamo approvata a giugno, quando invece il programma del PNRR era a dicembre? Direi quasi nessuno. Quello che intendo dire semplicemente, eppure è una riforma centrale, lo abbiamo discusso per anno, da qualche lato si può essere con qualche ritardo, ma è importante vedere se su qualche altro lato si è in anticipo, addirittura. Le faccio un altro esempio che ci riguarda strettamente. Tutti sanno ormai che è arrivata la tranche dei fondi europei ad agosto. Bene, il 4 agosto, quindi ancora prima che arrivassero i fondi, noi abbiamo raggiunto in conferenza Stato-Regioni gli accordi per distribuire 12 dei 16 miliardi la cui attuazione spetta appunto alla regione. Sui porti, le ferrovie regionali, il rinnovo degli autobus, il rinnovo dei treni territoriali. Ma lei sta elencando soltanto gli elementi positivi. No, sto dicendo, di nuovo Marenzi sa bene, avendo tante volte organizzato trasmissioni su questo tema, che raggiungere un accordo con le 21 regioni e province autonome su come distribuire i fondi non è mai stato semplice. Bene, questa volta l'abbiamo fatto ancora prima che i fondi arrivassero. Siamo stati bravi. No, questo è il segnale di una collaborazione interistituzionale tra governo, regione e città, che è un fatto nuovo. La preoccupazione su alcuni ritardi, su temi che questo Paese ha discusso per anni di nuovo, la riforma fiscale, la riforma della concorrenza, non deve stupire. Pensiamo alla riforma della giustizia. Lei si ricorda, ormai è data per approvata, ma quanti anni di discussione? Allora, è importante non focalizzarsi soltanto sugli elementi di potenziale ritardo, io non sono particolarmente preoccupato, ma mostrare anche che invece la velocizzazione di altri processi, su temi anche molto divisivi, segnala che il Paese, dal punto di vista istituzionale, oltre che politico, è più avanti forse di quello che le cronache quotidiane mostrano. Lei parlava dell'interlocuzione con le strutture territoriali, con le regioni. C'è un caso naturalmente di superattualità, che investe anche il suo ministero, che è quello della riapertura della scuola, che ormai è stata una realtà in mezza Italia, ha citato prima il caso appunto dei trasporti aggiuntivi, eccetera. Un suo bilancio, perché sappiamo che quello della riapertura delle scuole, proprio nella gestione dell'uscita dell'emergenza Covid, non è una cosa qualsiasi, è forse uno proprio degli snodi fondamentali. Passato qualche giorno, dal punto di vista sia dei trasporti che in generale, di come è andata, il suo bilancio se lo aspettava così, se lo aspettava forse più problematico, come la metterebbe? Questo è uno dei temi su cui, le dico, visto che è da aprile che ci lavoriamo, mi piacerebbe poter avere un sistema di monitoraggio più completo. Purtroppo, ed è uno dei temi che abbiamo segnalato nella proposta di riforma del trasporto pubblico locale che ho mandato in Parlamento nei giorni scorsi, il rapporto della Commissione preceduta dal professor Bernardo Mattarella, lo segnala chiaramente, la mancanza di dati sulla condizione della domanda di servizio pubblico, di qualità del servizio pubblico, è una delle debolezze dell'attuale sistema. Quindi cosa abbiamo potuto e dovuto fare? Mettere su un sistema di monitoraggio, molto attento con le regioni, io ho incontrato l'altro ieri i prefetti delle città metropolitane, ci rincontreremo il 30, e ho chiesto loro di fare un monitoraggio appunto attento. Ricordo che i prefetti hanno organizzato i tavoli prefettizi che hanno contribuito a predisporre i mezzi aggiuntivi, lo spostamento degli orari e così via. Lunedì incontrerò i sindacati, così da ascoltare anche la loro voce. Ecco, l'impressione complessiva, ma mi sembra anche sui mezzi di comunicazione, ieri c'è stato un interessante servizio di riservo, l'ho visto proprio su Sky, in cui sono segnalate criticità specifiche, soprattutto nelle grandi città, ma non sistemiche. E questo è un passo avanti notevole rispetto all'anno scorso, anche perché sono sei mesi che le regioni, i comuni, le scuole lavorano in questo modo, proprio nei tavoli prefettizi. Un'altra considerazione da fare. Con la decisione assunta ieri, con la generalizzazione dell'uso del Green Pass nei luoghi di lavoro, vuol dire che le persone che viaggeranno sui mezzi pubblici, del trasporto pubblico locale, saranno maggiormente in sicurezza. Dunque questo è un elemento che già contribuirà, al di là del rispetto delle percentuali di riempimento, a una riduzione dei rischi. Un'ultima considerazione. Abbiamo una differenza molto forte tra città e città, tra centro, periferie e così via, ed è una differenziazione a cui i media devono fare attenzione. Ieri nel servizio che avete trasmesso, molto intelligente, si davano i dati su Torino, e molto dettagliati dal punto di vista dell'azienda. Dice, quindi tutto bene? Non proprio. C'è stata un'intervista ad alcune persone, dicevano sì, ma la mia percezione è che in realtà alcuni mezzi fossero pieni. Voi non vi siete fermati lì, siete tornati dall'azienda dicendo come si mettono insieme percezioni e misurazioni, visto che Torino ha un sistema molto sofisticato anche di misurazioni. E l'azienda ha spiegato che per esempio in un autobus normale ci sono spazi per 82 persone nel rispetto dell'80% del tasso di riempimento fissato dal CPS. Può esserci quindi una percezione di contiguità. Ho letto un'intervista, non la vostra, a una studentessa di Roma che il primo giorno ha detto non ho trovato posto a sedere in metropolitana, quindi era piena. Ora, sappiamo tutti che non tutte le persone trovano posto a sedere. Ecco, la combinazione tra percezioni e realtà è un tema su cui tra l'altro la statistica ha lavorato moltissimo in occasione dell'introduzione dell'euro. Lei lo ricorderà? Lo ricordo bene, sì, fu un momento straordinariamente interessante anche per noi. Io resterei su questo tema perché l'esempio che ci ha fatto, Ministro, del trasporto pubblico e della difficoltà che avete avuto come Governo di avere i dati mi porta a considerazione. Allora, oggi siamo in un mondo che basta uno smartphone e hai accesso a una quantità di big data anche sofisticati, è assolutamente clamorosa, ovviamente se te li sai andare a cercare. Il fatto che sia difficile avere i dati sulle rilevazioni sul trasporto pubblico locale nelle città e nelle regioni, da che dipende? Cioè, da una impostazione culturale anche della politica, soprattutto a livello magari più decentrato, che non li sa andare a prendere, non li implementa, o proprio dalla difficoltà di raccoglierli? Perché a volte sembra che i dati sono proprio lì, è come una mela da prendere dall'albero, ma nessuno la prende. Cioè, è facile ma bisogna cambiare un po' l'impostazione soprattutto degli amministratori locali oppure c'è da fare un lavoro infrastrutturale appunto di raccolta, di collezione di questi dati? Guardi, il vostro servizio di ieri mostrava che a Torino c'è un'app, credo attraverso uno dei social media più diffusi, per cui quando sei alla fermata dell'autobus hai l'informazione sul tasso di riempimento dell'autobus che sta arrivando. E poi dunque decidere se salire o meno sempre nel rispetto dell'80% che abbiamo detto oppure magari aspettare qualche minuto perché l'applicazione ti dice anche che dopo tre minuti ne sta arrivando uno più vuoto. Quindi, tecnicamente, si può fare. Il problema è che il trasporto pubblico locale è gestito da centinaia di imprese in giro per l'Italia, non tutte così sviluppate. Perché, dice la Costituzione, allo Stato spetta finanziare il trasporto pubblico locale, la gestione, la programmazione spetta alla regione e ai comuni. Oggi i dati sono indispensabili, non solo per fare quello che abbiamo appena detto, ma anche per fare il salto di qualità verso la cosiddetta mobilità come servizio. Mobility as a service. Noi abbiamo un progetto su PNRR proprio per l'integrazione dei dati dei diversi gestori, per cui tu puoi comprare un biglietto integrato di un treno regionale, poi un autobus, poi un monopattino magari, o una bicicletta, con un colpo solo. Dunque, il salto che dobbiamo fare, come dice il rapporto della Commissione Mattarella, è non solo per controllare ciò che avviene, ma per cambiare il modo di programmare i servizi. E questa ha un'implicazione legislativa molto importante, perché non basta fare questa programmazione sul territorio di competenza di quella azienda di trasporto pubblico locale, perché le persone magari attraversano territori gestiti da diverse aziende di trasporto pubblico locale. Questa è la rivoluzione verso cui andiamo. PNRR ci farà fare delle sperimentazioni, ma è chiaro che dobbiamo cambiare anche la normativa per far sì che questi dati non solo debbano essere raccolti, possano fluire e possano generare nuove tipologie di servizio. Ministro, per questo lavoro, servono anche persone che lo sappiano fare. Ora abbiamo sentito anche prima un accenno al fatto che è difficile trovare competenze in materie tipo questa. Questo è un festival che si dedica anche, forse soprattutto, ai giovani. Lei cosa consiglierebbe a dei ragazzi che magari stanno studiando alle scuole superiori? Come spiegherebbe loro di quante persone, di che profili avete bisogno, anche per fare questo lavoro qui, che è molto pratico, che investe le nostre vite, ma anche le decisioni politiche, che è anche il successo della politica e alla fine la convivenza civile? Che devono studiare? Che devono fare? Cosa direbbe a un ragazzo che non sa ancora che strada prendere, che magari ha questo universo di professioni che sono utilissime e magari meno conosciute? Lei mi sta facendo parlare di una cosa che mi fa strillare un po' il fegato, perché mi riporta a settembre del 2013, la mia precedente esperienza di governo con il Ministro del Lavoro, in cui nella discussione su un decreto legge della Ministra Carrozza, all'epoca proprio sulle scuole, introdusse io in Consiglio dei Ministri l'obbligo dell'orientamento a partire dalla terza media. Era previsto soltanto per gli ultimi due anni della scuola superiore. In realtà oggi sappiamo, ma lo sapevamo già allora, che l'orientamento va fatto prima, perché anche la scelta delle scuole superiori è una scelta altamente professionalizzante. Purtroppo da allora non molto è stato fatto in questa prospettiva, con una grande differenza tra nord e sud. Dunque resta la capacità dei singoli, come in molte altre cose, e le relazioni dell'Istat ci dimostrano chiaramente che le condizioni della famiglia di partenza aiutano moltissimo i giovani a fare scelte che poi li orientano nella direzione giusta. Già all'epoca della mia esperienza come Presidente dell'Istat, e quindi torniamo al 2009-2013, già all'epoca era chiaro che negli Stati Uniti la domanda per statistici e data scientist stava schizzando verso l'alto. Era la più dinamica, era in prospettiva la più favorevole. E questo spiega purtroppo il ritardo. Credo che le facoltà di statistica integrate sempre di più dal punto di vista tecnologico per creare queste figure di data scientist abbiano fatto molto, ma ormai i dati sono ovunque in tutte le professioni. E quindi il tema è la conoscenza della matematica, il coding e così via. Mi faccio però dirle anche una cosa che per i miei colleghi statistici ricorda una discussione che avemmo nel consiglio direttivo dell'Istituto Statistico Internazionale a Rio de Janeiro, molti anni fa. Era il momento in cui si costituì la società mondiale dei data scientists che si contrapponeva all'Istituto Statistico Internazionale. e io proposi immediatamente di fonderli. La risposta degli statistici fu no. Ma come? Noi proprio per tanti anni abbiamo cercato di spiegare l'importanza della statistica. Adesso arrivano questi che hanno inventato un nuovo un nuovo descrizione data scientist. Tutti corrono da loro e a noi non viene nessuno e non viene riconosciuto il nostro ruolo. non lo vogliamo fare perché è troppo è umiliante. È una discussione reale perciò. Credo che 10-15 anni dopo si è capito che in realtà le due dimensioni sono molto strette. Chi investe tra i ragazzi nella statistica nel data scientist nell'uso dei dati fa certamente uno dei migliori investimenti positivi. Adesso torno su un argomento invece più legato alla strettissima contingenza l'aumento delle bollette il governo ha messo un miliardo di euro a luglio per ridurre l'aumento a carico delle famiglie adesso si prospetta un intervento ancora più grande sappiamo che molto è legato alle materie prime al gas naturale quindi non è direttamente collegato in gran parte alle questioni di transizione però il tema gile gialli è sempre lì cioè il rischio che venga percepita la transizione ecologica come una roba da ricchi e quindi che resti in visa a larga parte della popolazione sarà una delle vostre sfide anche come governo già da subito queste settimane da questi giorni? Lo è ma credo che la sfida principale sia qui rilancia la palla nel campo del giornalismo aiutare il paese a capire cosa è congiunturale cosa è strutturale e leggere tutto questo in una visione sistemica mi spiego adesso tutti a parlare dell'aumento delle bollette giusto ma sappiamo che il settore delle costruzioni da tempo da un annetto sta fronteggiando un aumento delle materie prime straordinariamente forte che mette in crisi o rischia di mettere in crisi anche i progetti del PNRR perché i costi se non rientra questa bolla saranno molto più elevati noi siamo intervenuti già a giugno per un meccanismo analogo a quello del 2008 2009 perché vede Marenzi lei lo sa bene ma non tutti ci siamo già passati in fasi del genere la ripartenza dopo una grave crisi determina questo tipo di fenomeno se però sono di breve termine vanno gestiti in un certo modo se sono di medio termine vanno gestiti in modo diverso ecco bisogna riuscire a aiutare l'opinione pubblica a capire cosa è strutturale cosa è congiunturale ed è qui dove naturalmente la statistica può aiutare molto ma la statistica tipicamente si occupa del passato del misurare quello che sta avvenendo in realtà la statistica insieme all'econometria e altri metodi ci aiuta a capire anche cosa potrebbe avvenire con modelli predittivi quindi lo studio del presente è fondamentale ma dobbiamo guardare anche al futuro ed è qui dove gli analisti si dividono tra chi dice che torna alle costruzioni ma vale anche per le energie questa è una bolla e tra qualche mese tornerà indietro e c'è invece chi dice che ci sono dietro motivazioni geopolitiche molto forti da parte della Cina ma anche gli altri paesi che giocheranno con i paesi sviluppati a negoziare sullo scacchiere internazionale manovrando questa leva dei prezzi probabilmente la verità sta in mezzo ma è proprio questo tipo di discussione che deve in qualche modo venire prima di una decisione al governo che interverrà negli elementi congiunturali ma deve anche affrontare gli elementi strutturali come quelli che le ricordava sulla transizione ecologica Ministro per 30 secondi le chiedo solo se lei è fiducioso che quest'anno possiamo fare quel più 6% di cui si comincia a parlare sì io sono abbastanza fiducioso anche perché nella mia storia professionale ho costruito modelli in cui l'elemento psicologico aveva un peso rilevante bisogna guardare i dati sulla fiducia analizzarli perché talvolta sono contraddittori ma credo che il combinato disposto di questi elementi la spinta di azione del governo ma anche l'aumento del risparmio non desiderato a causa della pandemia sono tutti i fattori che spingeranno la domanda nei prossimi mesi e quindi credo che quel numero sia alla nostra portata ma bisogna appunto evitare che una nuova ondata di contagi fermi le nostre attività produttive da quinta decisione di ieri bisogna sostenere quei settori con strozzature di offerta come abbiamo detto fino adesso e bisogna soprattutto correre sulle riforme perché al di là del rimbalzo di quest'anno vogliamo che il nostro paese sia in grado di crescere anche negli anni successivi senza una spinta del bilancio pubblico analoga a quella che stiamo realizzando in questi mesi allora il nostro tempo è finito io ringrazio il ministro Giovannini per questa mezz'ora che credo sia stata di grande interesse per temi che abbiamo trattato temi anche non banali nel senso non quelli di attualità diciamo solita ma anche andando a sviscerare alcuni temi trasversari che riguardano l'istruzione l'educazione e la percezione anche il ruolo di noi media ce l'ha anche cantato un po' dobbiamo dire che spesso ha ragione grazie ministro lavoro al direttore camisasca grazie grazie mille veramente di questa ricchissima mezz'ora grazie al ministro Giovannini il festival è cominciato direi alla grande e continua continua sia online che attraverso tutti i social e quindi invito tutti coloro che ci hanno seguito a continuare a seguirci con tutti gli strumenti di comunicazione ricordo che immediatamente dopo è possibile rivedere i nostri interventi che sono stati effettuati in diretta streaming e quindi tutto il programma è visionabile man mano che matura man mano che cresce man mano che si sviluppa certo chi vorrà invece raggiungerci in presenza a Treviso potrà anche godere di qualcosa che in presenza caratterizza questo festival per esempio gli enigmi danteschi perché il festival della statistica quest'anno è andato a caccia di quanti trucchi statistici il sommo poeta Dante ha messo dentro la divina commedia quindi tra pochi istanti verrà inaugurato questo spazio anche di gioco e ludico ma di grande approfondimento andando a scoprire nel mondo della letteratura proprio nell'anno dantesco tutto ciò che già allora c'era di statistico un grazie veramente a tutti ai presenti qui a Treviso a tutti coloro che ci hanno seguito in streaming e buon proseguimento di festival della statistica e della demografia 2021 grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti